su Radio Day 97.6 anche se lo pagino di Facebook è partito da diretta ho tentativo di riconnessione non so se questo è troppo alto sento come se il mio microfono fischiasse un po' forse è alta un po' la cassa e si sentono anche le persone da fuori l'importante è che sia tutto ok allora siamo da Ignara Motors in diretta adesso sono le 18 e 10 minuti in questo momento e naturalmente siamo con Ciamma de DJ Ghetano Donofrio e Radio Day on the road la grande radio Radio Day che poi è la radio del Frosinone calcio esattamente io ieri allo stadio, pensa che era la prima volta che andavo a vedere una partita del Frosinone male molto male non puoi capire che cosa non mi hanno potuto dire perché delle volte mi capita di presentare delle manifestazioni qui a Frosinone dove ci sono i calciatori e quindi mi devo prima preparare certo informarsi sui perché io non sono così proprio portato per il calcio ed è divertente appunto che mi informo non soltanto dalle persone che stanno che ruotano intorno alla squadra del Frosinone ma direttamente dai ragazzi che giocano e loro si divertono molto mi dicono anche un sacco di bugie che poi in diretta mentre facciamo gli spettacoli si scoprono allora noi siamo qui anche su Instagram però su Instagram dovete andare nella pagina di Ciamma di Ciamma e fra l'altro c'è anche Matteo lo salutiamo salutiamo Matteo ciao Matteo e ce ne sono anche tanti altri devo dire si anche su Facebook tante persone collegate sì l'ultima volta che ho fatto Radio Day on the road parliamo di una mesata fa perché ho avuto dei problemi quindi non ci sono stato penso che tutte le dirette tutti gli spezzoni insieme hanno totalizzato 14.000 visualizzazioni quindi mi permetto di ringraziare tutti voi che ci ascoltate sempre ma Radio Day è la radio dei numeri 1 ed è soprattutto la radio numero 1 non tanto perché c'è Ghetano Donofrio quanto perché c'è Ciamma di Ciamma allora sicuramente andiamo forti va bene a parte questo se volete potete mandare un messaggino di testo al 349 50 99 101 anche Whatsapp così salutate chi volete se volete richiedete anche la vostra canzone preferita il numero l'abbiamo già detto lo ripetiamo anzi chiedetela voi la canzone preferita perché quando io gli chiedo un brano lui non me lo mette mai mai devo dire un collega retifonico molto caro magari puoi avvisare qualche amico che me lo manda manda questa canzone richiedi questa canzone così me la fa ascoltare allora tu devi sapere che in Italia vengono tanti stranieri e vanno soprattutto a Roma 25 milioni di stranieri nello scorso anno pochissimi pochissimi tu immagina di che può significare una squadra di calcio una squadra di calcio proprio voglio dire e Milano tu sai che Milano loro fanno sempre un po' a gara con Roma no? ebbene Milano lo scorso anno invece ha avuto 10 milioni 10 milioni erotti di turisti quindi praticamente la metà esattamente la metà ma tu quando vai a Roma a parte insomma quando ci vai per lavoro perché ci vai sempre ti incontri tutte le serate tutti gli spettacoli più importanti ma quando ci vai per soltanto per farti una passeggiata dov'è che vai? guarda normalmente vado zona Fontana di Trevi non si può non andare al Pantheon non si può non andare magari se si vuole anche in città del Vaticano che so San Pietro da quelle parti poi ci sono anche altre mete turistiche anche alla parte di Ostia per esempio Torvaglianica tutta quella zona del litorale romano diciamo così che poi va a confinare diciamo con anche la provincia di Latina perché la cosa bella del Lazio è che comunque vai in un punto e hai la provincia di Frosinone e poi arrivi ad un altro punto dove trovi l'Abruzzo poi soprattutto di Frosinone questa cosa qui poi trovi Roma dalla parte quindi di Colleferro tutta quella zona lì quella zona lì dopo Anagni poi magari vai verso la parte di Marittima e quindi trovi sia le province di Latina anche le province di Roma e poi per finire la parte del Basso Lazio chiamano così dalla parte di Cassino dove poi dopo Cassino trovi già la provincia casertana quindi Napoli e così via quindi è questa la posizione geografica di Frosinone supera pensa Milano 15 milioni di turisti l'anno addirittura quindi Napoli poi è bellissima per tanti fattori è bella per la storia è bella per i monumenti ma è bella anche per le gite turistiche le gite dei giovani dei giovani anche per andare per esempio per andare a Capri piuttosto che a Procida a Ischia insomma è carina ed è molto bella poi spacca Napoli è fighissima sei andato in gita quest'anno? allora vado al Teatro San Carlo lo sai? il 7 giugno il giorno del mio compleanno penso un po' abbiamo qualcosa in comune il giorno prima è il mio compleanno ma davvero assolutamente quindi anche tu sei un gemelli sì anche io sono un gemelli ci credi all'oroscopo? non tanto non lo ascolto proprio sinceramente eppure sbagli sbagli? no quello di stamattina diceva che avresti trovato l'anima gemella l'anima gemella ma perché è un altro gemelli e quindi trovo un'altra persona che è un altro giugno no 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 dice guarda mentre fai il programma con Gaetano Donofrio e da Ignara Motors dove vengono tantissime persone tra cui anche tante belle ragazze troverai l'anima gemella troverai l'anima gemella secondo me lì di fronte l'anima gemella no però non lo ascolta non lo ascolta è impegnato ogni tanto lancia lo sguardo ma non non si sbilancia troppo vabbè allora salutiamo anche Mario Vito Iris e Marika che si sono collegate Mario si chiama Mario non Marika c'è scritto Mario guarda ti posso raccontare l'aneddoto di questa persona sicuramente ci sta ascoltando adesso gli strappo anche un sorriso vediamo circa cinque anni fa quando c'era l'Expo quanti anni fa più o meno 2016 forse no 2015 credo Expo di Milano 2016 2015 esattamente nel periodo finale diciamo dell'Expo andai con un mio amico a Milano all'Expo 2015 per visitarlo a ritorno dovevamo prendere il Frecciarossa alla stazione di di Milano centrale e è successa una cosa un po' strana che all'ultimo momento viene cambiato il numero del treno il numero del binario del treno e appunto perdiamo il Frecciarossa il conto è che perdi non so un regionale e vai a quello dopo invece perdi il Frecciarossa vai il giorno dopo e trovo questa persona che appunto poi da quella vicenda mi ha seguito e seguo anch'io che tra l'altro mi ha raccontato che fa anche la radio nelle sue zone lui è credo nel basso dell'Italia sud Italia non so se dalla parte di Taranto dove lui quando poi torna a casa fa anche la radio nel frattempo faceva il controllore di Trenitalia e mi ha fatto imbarcare al treno successivo quindi io ancora lo ringrazio e però la cosa bella devi sapere che quando sono stato a Milano nuovamente la scorso luglio è successa la cosa analoga e ho riperso il Frecciarossa però questa volta era in ferie quindi ho dovuto rifare il biglietto tutto quanto quindi ti lascio immaginare se sei uno che perde facilmente i treni ma guarda sono i treni che perdono me è diverso ma pure io io arrivo sempre all'ultimo minuto all'ultimo secondo sì l'abitudine è quella solo che poi il treno non ti aspetta quando hai un amico che ti aspetta alla fine di quei dieci minuti e anche gli aerei no ecco gli aerei i treni non ti aspettano quindi se arrivi trenta secondi dopo arrivi arrivi praticamente il giorno dopo a casa perché poi magari rischi che è l'ultima l'ultima corsa della giornata e devi aspettare il giorno dopo fermo salutiamo anche Giovanni che si è appena collegato sulla nostra pagina di Instagram rimarremo in diretta sulla pagina di Instagram mentre se ci volete ascoltare in frequenza potete andare su 97.6 e a pezzetti sulla pagina di Facebook quindi quando noi entriamo in voce ci ascoltate avevi altre notizie? no no al momento no 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 e ascoltiamo Alice Merton assolutamente chiediamo però ai nostri ascoltatori quali sono le loro mete per quest'estate 2018 certo o quando partire quando è la stagione il periodo più adatto per partire e anche perché così vi veniamo a trovare con Radio Day on the road andando per le strade e può capitare di venire nelle vostre spiagge o nei vostri luoghi di vacanza perché Radio Day si sta preparando appunto per un on the road in tutta Italia in tutta Italia all around the world ci ascoltiamo Alice Merton No Roots